Musica Mercoledì 12 giugno si è riunito il Consiglio regionale. Prima però c'è stato il ricordo commosso partecipato del consigliere Massimiliano Pescini che è scomparso lo scorso 25 maggio. Non aveva neppure 50 anni. Al suo posto la viene messo un mazzo di fiori. I consiglieri hanno approvato il rendiconto del Consiglio regionale e il budget economico per il triennio 2024-2026 dell'Azienda per il diritto allo studio universitario e il bilancio dell'AMMA. Ente questo il LAMMA a cui viene modificato lo statuto allungandone l'attività almeno fino al 2050. Sport e benessere. Ci sono importanti novità per le palestre della salute e per l'affidamento degli impianti sportivi. Ne parliamo anche con le interviste ai consiglieri. Nel Consiglio direttivo degli antiparco saranno rappresentati anche i lavoratori e così i membri passano da 7 a 8 comprendendo dunque anche un rappresentante delle organizzazioni sindacali più diffuse. Parleremo poi del Premio Architettura Toscana che è giunto all'atto finale e che mette in mostra le opere dei vincitori alla Palazzina Reale di Firenze fino al prossimo 21 giugno. Si era ammalato da poco tempo Massimiliano Pescini ex sindaco molto amato di San Casciano Val di Pesa poi consigliere regionale stimato da tutti ci ha lasciato alla fine di maggio prima della seduta lo ricordano i colleghi consiglieri al suo posto viene messo un mazzo di fiori dopo il minuto di silenzio parla il presidente dell'Assemblea regionale. Mi sarei aspettato tutto ma mai di dover salutare un collega, un amico, una persona speciale uno di quei rappresentanti delle istituzioni di cui avremmo sempre più bisogno non è retorica e non è perché Massimiliano non è più con noi in questi anni ho imparato a apprezzare l'amore per la sua comunità l'amore per la Toscana nel suo sorriso si legge la buona politica la politica fatta di ascolto la politica fatta di prossimità è un esempio per le ragazze e i ragazzi più giovani la buona politica esiste e Massimiliano la incarnava non c'è distinzione politica o di appartenenza Pescini lo stimavano e lo rispettavano tutti lo comprendiamo bene anche noi da queste brevi interviste da alcuni suoi colleghi intanto del gruppo politico è stato un passaggio difficile un consiglio carico di commozione di carica emotiva dove tutti hanno reso omaggio a Massimiliano Pescini come uomo ancora prima che come collega come compagno, come amico Massimiliano ci ha lasciato causa una malattia terribile in soli 60 giorni questa malattia si era manifestata proprio durante i lavori di un consiglio il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica della politica fatta con generosità della politica fatta al servizio della comunità Beh sicuramente il suo carattere che io ho apprezzato sempre tanto l'ho descritto così la sua calma, la sua riflessività la sua gentilezza, la sua pacatezza sono doti che io nella politica apprezzo molto perché secondo me sono quelle che servono per mettersi in ascolto con le persone quindi il lavoro che lui ha fatto era il mio vicino di banco le lunghe chiacchierate e quindi il non fermarsi mai all'apparenza alla superficialità ma andare in profondità alle questioni è un qualcosa di cui la politica ha un grande bisogno oggi e cercherò di portarlo nel cuore Bugetti nel frattempo è stata eletta sindaca di Prato ma ha voluto essere lo stesso qui per onorare la memoria di Pescini apprezzato, come dicevamo anche dai consiglieri di altre forze politiche Io con Massimiliano avevo un rapporto politico da tre anni un rapporto personale di amicizia da dieci quindi ovvio che i miei ricordi stiano più fuori dall'aula che dentro e la stranezza di questo rapporto ho raccontato un episodio che racconto volentieri anche a voi perché la dice lunga su quanto sia strana a volte la vita io ero reduce sono reduce da una campagna elettorale fatta in quattro regioni in giro per la Toscana l'Umbria, le Marche e il Lazio per le elezioni europee Massimiliano lo sapeva e abbattuta mi ha detto quando vieni a San Casciano non passi da San Casciano dimmelo che vengo a darti noia e alla fine la tornata elettorale ha voluto che il giorno scelto per andare a San Casciano fosse proprio il giorno in cui Massimiliano è morto e per me questo vuol dire qualcosa è stata una commemorazione bella venuta dal cuore da parte di tutti io non lo conoscevo benissimo se non in questi tre anni e mezzo del Consiglio regionale quindi diciamo quello che posso dire io è marginale però vista l'afflato con cui tutti si sono espressi ho cercato di posporre i miei sentimenti a una frase del Foscolo che è poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti e lui ne ha lasciati veramente tanti interviene poi il vicepresidente dell'assemblea si Massimiliano era prima di tutto un amico un politico una persona intelligente che utilizzava la sua intelligenza a servizio degli altri il senso dell'appartenenza al proprio partito alla nostra comunità a quella del Consiglio regionale della Toscana un sindaco al quale il proprio territorio voleva bene ed era una persona che ha lasciato un ricordo incredibile in tutto il Consiglio regionale e credo che sia stato un atto di dovere istituzionale e dovere fermarsi e ricordarlo e soprattutto portare alla memoria della nostra regione una figura di un valore politico di altissimo livello dalla famiglia il ringraziamento della compagna marina Nesi che affida il messaggio al presidente Mazzeo la famiglia sta vivendo un dolore straziante e un vuoto insostenibile ma siamo commossi per le manifestazioni di affetto ricevute da tutti in questi giorni la parola anche al sindaco di oggi di San Casciano Valdipesa che è stato appena confermato alla guida del comune lui riprende una parte di un intervento dello stesso Pescini davanti ai volontari del suo comitato elettorale qualche tempo fa devo dire che rappresenta proprio quella che è la visione di Massimiliano della Toscana di una terra che ha sempre a cuore non solo quanto c'è da fare ma anche quanto è stato fatto ricca di storia di sacrifici ma anche consapevole che il futuro deve essere trovato lavorando e conoscendo gli altri al suo posto ora rientra in consiglio regionale Fiammetta Capirossi prima nell'elenco dei non eletti nel collegio elettorale di Pescini pensavo di essere più forte invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo perché avevo promesso a me stessa e avrei dato un'ora a Massimiliano cercando di non piangere invece così non è stato e ancora faccio fatica sono felicissima di poter rendermi utile al mio territorio so che Massimiliano avrebbe detto Fiamma vai e fai quello che sai fare quindi con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani che per me è un conforto incredibile spero di poter essere utile per il mio territorio per la regione e per il mio partito che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato Il primo atto approvato nell'ultima seduta del Consiglio regionale riguarda il rendiconto per l'esercizio finanziario del Consiglio per il 2023 due pareri uno di maggioranza l'altro di opposizione I numeri ci parlano di una gestione sicuramente attenta oculata ed anche efficace ciò è dato dagli aspetti di bilancio contabile in senso più stretto però anche il fatto che il rendiconto consegni al Consiglio regionale in questo esercizio 1.700.000 euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera sia per spesa di investimento che per spese correnti ma una tanto ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili ci sono continui avanzi liberi ormai da parecchi anni che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio peraltro sotto questo profilo abbiamo evidenziato la necessità che avevamo richiesto già da tempo di una dotazione per le proposte di legge e di iniziativa del Consiglio regionale di risorse economiche da questo punto di vista che invece non trovano ancora soluzione fra Giunta e Consiglio regionale alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescano nemmeno a spendere le risorse abbiamo confermato un segnale negativo che avevamo già dato e abbiamo votato contrario poi i consiglieri hanno esaminato e votato due provvedimenti che riguardano il binomio sport e benessere il primo riguarda le cosiddette palestre della salute sono come si legge in un articolo della nuova legge strutture di natura non sanitaria pubblico private definite da un decreto legislativo del 2021 in cui si possono svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso decreto la regione stabilisce i requisiti per l'idoneità per chi presenta patologie o fattori di rischio sanitario e che naturalmente deve essere seguito da professionisti al voto però l'aula si divide spetterà adesso alla giunta regionale definire criteri metodologie personale da assegnare in quelle palestre dove ci sarà un riconoscimento oggettivo sarà una novità importante perché diventeranno luoghi di sport e luoghi di salute non è un'iniziativa di carattere sanitario ma la salute in questo caso si produce mediante lo sport che sviluppa prevenzione sono molto orgoglioso di essere stato il firmatario di questa legge che dà alla Toscana anche l'orgoglio di introdurre una novità importante magari anche il sogno di riconoscere il Pegaso fuori di una palestra che dà anche una garanzia e tranquillità a tanti genitori che mandano i propri figli in questi luoghi a fare sport un'occasione persa noi siamo convinti che lo sport specialmente per chi lo fa oltre 40 anni sia soprattutto una pratica che serve a avere una salute migliore le palestre della salute sono una certificazione perché in alcune palestre si possono trovare anche dei servizi anziché no e noi per esempio riteniamo che per avere la certificazione della palestra della salute si debba avere uno spazio dove ci possa essere un ambulatorio di specialisti dove venga fatta un'attività diagnostica di bassa e media intensità dove venga fatta un'attività di screening e di prevenzione per cui se il consigliere Petrucci va in palestra nel tal posto sa che lì può trovare una volta alla settimana una volta al mese la possibilità di fare un elettrocardiogramma sotto sforzo la possibilità di misurarsi la pressione la possibilità di avere una visita specialistica è un'anime invece la votazione sulle nuove regole per l'affidamento degli impianti sportivi si stabilisce cioè che avvenga in via preferenziale a società e associazioni sportive direttantistiche enti di promozione sportiva discipline sportive associate federazioni sportive nazionali e anche a raggruppamenti temporanei tra tutti questi soggetti storicità numero dei tesserati partecipazione dei giovani qualificazione del personale programmi di cura e manutenzione delle strutture con attenzione al superamento delle barriere architettoniche sono questi alcuni dei criteri fissati dopo un confronto che è stato partecipato e condiviso è stato un lavoro che ha portato un risultato significativo in unanimità segno che il lavoro fatto è andato nella direzione di mettere i comuni gli enti locali nelle condizioni di lavorare meglio lavorando sui criteri inserendo criteri nuovi o rimodellando criteri esistenti nella versione precedente della legge a partire dall'autocità sul territorio sull'impianto la valorizzazione dei settori giovanili degli staff si punta a valorizzare quelle realtà che fanno una gestione attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi e a favorire i comuni ad avere quegli strumenti necessari per governare questo pezzo del loro territorio noi pensiamo che sugli impianti sportivi vada fatto un lavoro differente noi in Toscana abbiamo pochi impianti sportivi quei pochi sono tenuti male a volte malissimo non è mai stata fatta una programmazione nemmeno un'attività comprensoriale per cui nei comuni più piccoli a due chilometri di distanza uno dall'altro troviamo gli stessi impianti ripetuti entrambi fatiscenti anziché invece trovarne uno solo tenuto bene noi pensiamo che lo sport per i più giovani sia il migliore antidoto verso le devianze verso le cattive pratiche per poter far sport ci vogliono impianti sportivi ce ne sono pochi tenuti male e fino ad oggi non sappiamo nemmeno bene come siamo stati dati in concessione tra l'altro sempre è solito pensiamo che ci sia un grande tema che sia quello degli stadi delle grandi città dei città capoluoghi che sono utilizzati una volta ogni due settimane noi pensiamo che si possono utilizzare anche per le squadre minori cosa ha deciso poi il Consiglio intanto ha dato l'ok a maggioranza al parere sul bilancio di previsione dell'azienda per il diritto allo studio universitario nel documento approvato dalla Commissione Istruzione e Cultura si raccomandava di mantenere alta l'attenzione alle tariffe per l'emenza e di valutare gli interventi di investimento programmati facendo subito comunque al più presto quelli necessari sì anche al bilancio dell'AMMA per cui c'è pure un'altra novità cambia infatti il suo statuto in due punti nel primo si proroga l'esistenza del Consorzio fino al 2050 la scadenza era fissata al 2027 20 anni dopo la sua istituzione nel secondo si prevede la possibilità di un aumento del contributo economico della regione per le nuove esigenze che sono maturate parliamo anche dei parchi regionali perché nel Consiglio direttivo il numero dei membri passerà da 7 a 8 entrerà infatti un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente diffuse sul territorio insomma i lavoratori avranno più voce nell'organo di amministrazione a proposito di parchi con una modifica allo statuto il Consiglio prova anche a sbloccare la nomina del direttore del Parco delle Apuane parliamo subito del premio Architettura Toscana c'è stata la proclamazione dei progetti che hanno vinto sono state quasi 120 le opere valutate in 5 categorie diverse opera prima opera di nuova costruzione opera di restauro recupero opera di allestimenti o interni opera su spazi pubblici paesaggio rigenerazione hanno vinto la Casa dell'Architetto di Collodi a Pistoia la Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa la Cantina di Guado al Tasso di Castagneto Carducci in provincia di Livorno Fattori di Firenze Go Giunti Odeon di Firenze e Borgo di Torri di Sovicille in provincia di Siena con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio molto molto forte alle giovani architette ai giovani architetti il messaggio è state sempre sulla frontiera del cambiamento la Toscana è terra di arte è terra di storia è terra di cultura è terra di bellezza e noi dobbiamo preservarla ma la Toscana deve avere la capacità anche di pensare alle città del domani a come tenere insieme la nostra storia e l'innovazione e questa è la sfida che abbiamo di fronte ed è questa la ragione per cui continuiamo a finanziare il premio Architettura dopo la cerimonia di premiazione alla palazzina reale di Piazza Stazione che è la sede lo ricordiamo di ordine Fondazione Architetti Firenze è stata inaugurata anche la mostra dei progetti vincitori rimarrà allestita e visitabile fino al 21 giugno un'altra mostra molto bella è Dentro il mare Viaggio nel blu della Toscana resterà aperta nello spazio espositivo di Via dei Pucci a Firenze fino a sabato 22 giugno l'autore e il fotografo Sandro Leonelli i suoi scatti guardano al mare sottolineano anche come sia importante tutelarlo proteggerlo conoscerlo riconoscerlo questo viaggio è partito l'11 d'aprile del 2023 da Piombino fa parte di un progetto itinerante abbiamo viaggiato in tutta la provincia di Livorno e oggi siamo felicemente a Firenze a portare a nostri cari amici fiorentini un contributo e soprattutto una testimonianza del mondo sommerso ormai Sandro ci ha abituati a queste sue iniziative che appunto riescono a portarci fuori dai nostri perimetri diciamo abituali quindi insomma è con piacere che vedo nuovamente i suoi i suoi lavori e mi congratulo ogni volta con lui perché c'è sempre qualcosa di nuovo di diverso di poetico diciamo così in quello che fanno un aiuto importante a questa iniziativa lo ha dato la Guardia Costiera accompagnato infatti il lavoro di Leonelli il tenente di vascello Alberto Poletti io sono legato a questa mostra non solo da un aspetto professionale perché appunto è parte della nostra missione come Guardia Costiera la tutela dell'ambiente marino e la promozione degli usi sostenibili e compatibili con l'uso da parte di tutti del mare ma anche a livello personale perché in questo percorso ho avuto la fortuna di accompagnare il curatore un po' in tutte le fasi e credo che sia un momento molto importante molto positivo perché la tutela del mare passa anche dalla promozione della sua bellezza perché davanti all'evidenza tanto semplice quanto meravigliosa di quanto è ricco il mare è più facile anche promuovere un'educazione verso le persone a un maggiore rispetto e a un uso consapevole della risorsa marina all'inaugurazione c'erano anche il consigliere Marco Landi e l'ex vicepresidente del consiglio regionale che in molti si ricorderanno Giuliano Fedeli nelle sue opere nei suoi scatti davvero ti cattura e ti senti dentro quel mare per chi come me isolano dell'isola d'Elba chiaramente mi sento dentro questi scatti e si percepisce davvero quelle che sono le bellezze del nostro mare dell'arcipelago toscano di tutta la costa che abbiamo davanti Piombino che sono poi le zone dove Sandro Lonelli ha portato avanti con tantissima professionalità è un grandissimo lavoro una mostra che è visitabile qui presso il consiglio della regione toscana fino al 22 di giugno è la seconda volta che porto il mare a Firenze prima all'accademia navale e ora il nostro fotografo subacqueo con questa mostra itinerante noi cerchiamo di stimolare le nuove generazioni tutte le persone a cosa c'è sott'acqua un mondo che dovremo cominciare a rispettare di più valorizzare di più e conoscere meglio oggi ci fermiamo qui vi diamo appuntamento alla prossima puntata che eccezionalmente non andrà in onda venerdì 21 ma lunedì 24 giugno alla fine delle votazioni nei comuni interessati dal ballottaggio prima trasmissione alle 20 e 10 con repliche il giorno successivo